E' stata aperta un'indagine per omicidio colposo dalla procura di Pescara. Il caso della slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola ieri pomeriggio con il passare delle ore si arricchisce di dettagli e notizie che aprono nuovi scenari. Una notte intera per raggiungere la destinazione da parte dei soccorsi, difficoltà ad aprire la strada, intervento dell'esercito, protezione civile, una lunga colonna bloccata per ore, elicotteri per far intervenire gli uomini, le prime immagini di quel che resta del resort frequentato anche dalle celebrità testimoniano la forza dell'impatto che ha portato alla distruzione della struttura. L'area ripresa è quella del seminterrato dove si trovava la zona termale, le scale sono quelle che portavano all'ascensore per salire alla reception, neve e detriti quello che resta. Secondo quanto riferito da un testimone, gli ospiti del resort erano pronti a ripartire con tanto di valigie nella hall. Si attendeva l'arrivo dei mezzi spazzaneve per poter liberare la strada. L'arrivo era previsto per le 15, poi la comunicazione di un ritardo fino alle 19. Alle 17.40 la richiesta d'aiuto lanciata da Giampiero Parete, il cuoco in vacanza con la sua famiglia, che era uscito per andare a prendere qualcosa nella sua macchina, pochi istanti che lo hanno salvato da una terribile fine. L'abitacolo della sua autovettura lo ha riparato dalla furia della Slavina e da lì che è riuscita a far partire una telefonata per chiedere soccorsi immediati. Una tragedia che vede il suo crescendo nella pagina social del resort. Domenica un video testimoniava la nevicata in corso con l'immagine della piscina esterna riscaldata. Martedì una sequenza di foto che recitava. Un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala scenari spettacolari. Mercoledì mattina invece, il giorno della tragedia, alle 9 l'ultimo post che avvisava causa a maltempo le linee telefoniche sono fuori servizio e la richiesta di essere contattati via mail. 8 ore più tardi la Slavina. Un impatto fortissimo dimostrato da una comparazione di foto che mette in luce lo spostamento dell'hotel a seguito della Slavina. È stato stimato 300 metri il suo fronte, ci sono accumuli che raggiungono i 5 metri in altezza. Quattro i corpi senza vita estratti dalle macerie e dalla neve e ancora non è certo il numero delle persone al suo interno. Inizialmente una trentina, le persone stimate tra ospiti e personale, ora invece la notizia di un numero superiore, forse 35, non si conosce ancora il numero esatto. Le persone registrate in questura ufficialmente sono 22 ospiti e 7 dipendenti, da capire il perché di ulteriori presenze non registrate. Drammatiche anche le dichiarazioni dell'uomo che ha ricevuto la telefonata con la richiesta d'aiuto, che ha contattato tutte le forze dell'ordine in cerca di un intervento immediato. Si tratta del proprietario del ristorante, dove lavora il cuoco portato in salvo questa mattina e ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. La sua famiglia invece è rimasta intrappolata nell'hotel. Nel frattempo viene alla luce un esposto alla Procura della Repubblica per abuso di ufficio nei confronti del Comune di Farindola, portata avanti dall'Associazione Codici, che aveva inviato una diffida all'ente, chiedendo di interrompere le procedure di affidamento di una concessione di 4.000 m2 di terreno nella contrada Rigopiano, alla società Del Rosso SRL, il proprietario del resort. Motivo? Si trattava di una zona di particolare interesse ambientale e paesaggistico nel cuore della riserva naturale. Nonostante la diffida, il Comune di Farindola era andato avanti con voto favorevole. L'Associazione Codici poi si era rivolta anche alla Polizia Forestale, che per competenza si occupava della vigilanza sulle riserve naturali. Un esposto che porta alla data del settembre 2008, un'inchiesta per corruzione portata avanti dal PM Gennaro Varone, a fronte di intercettazioni telefoniche che ipotizzava il passaggio di denaro e promesse di posti di lavoro per ottenere quel voto favorevole per sanare l'occupazione abusiva del suolo. Lo scorso mese di novembre il processo si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. Motivazione? Il fatto non sussiste. Chi sarà qua? Chi sarà qua? Ok, ci sta vicino.